Buonasera e benvenuti alla trentesima puntata di Era Pacis, penultima prima della pausa estiva. Alla vigia del voto amministrativo di ieri e oggi, l'attenzione dei media si è soffermata sulla contrapposizione tra le piazze vuote dei comizi dei leader politici e quelle piene che a Genova e Palermo hanno caratterizzato il funerale di Don Gallo, prete di strada, e la cerimonia di beatificazione di Don Puglisi, parroco assassinato dalla mafia nel 1993. Contrapposizione da cui si è frettolosamente tratta la conclusione che la politica è cattiva mentre chi interpreta la missione pastorale fuori dagli schemi curiali è buono. Senza capire invece che quelle piazze vuote e piene sono il segno di una pericolosa tendenza degli italiani a fuggire dalla realtà, un modo per scaricare le responsabilità credendo che tanto la soluzione dei nostri problemi di oggi quanto la riaccensione di una speranza per il futuro spenta da tempo stiano negli eccentrici, nelle personalità diverse, contestatrici delle gerarchie. E' quello che io chiamo il conformismo dell'anticonformismo. D'altra parte l'idea che basti essere contro per essere nel giusto ce la portiamo dietro fin dal 1968 e la scoria non smaltita di un sessantottismo mai metabolizzato dove la cultura dell'opposizione prevale sempre su quella di governo e cui successivamente si è aggiunto un impasto di moralismo, giustizialismo, buonismo perdonista che hanno reso maggioritaria nel nostro Paese la tendenza a credere che tutto ciò che accade sia sempre colpa della società e mai degli individui. Ed è in questo contesto di generalizzata di responsabilizzazione che si innesca quella perdita di ambizioni individuali e collettive di cui hanno parlato con accenti tanto severi quanto condivisibili, acuti osservatori delle dinamiche sociali e politiche come De Rita, Gali della Loggia e Amato. Se oggi l'Italia è un Paese pericolosamente declinante è perché al di là della recessione e delle altre dinamiche economiche rifiuta di mettersi in gioco, preferisce ripararsi dal cambiamento piuttosto che innovare, antepone i diritti ai doveri, ama la retorica e il populismo anziché guardare in faccia la realtà. Una volta c'era l'ambizione di voler essere qualcuno, anche se spesso a scapito della meritocrazia, e la contestazione era basata sulla pretesa di generalizzare per tutti i vantaggi di alcuni. Oggi invece di apprendere la lezione della crisi per imboccarci le maniche e renderci più efficienti, pretendiamo che nessuno abbia più degli altri. Altro che sobrietà, questo è appiattimento regressivo verso il basso. Un egualitarismo che per giunta non è più neppure sorretto da un'impalcatura ideologica come nel passato. D'altra parte, se un governo di grande coalizione, che dovrebbe avere l'ambizione di realizzare ciò che divisi i partiti non hanno saputo fare, si ferma a decretini anti-emergenze, vuol dire che stiamo proprio raschiando il fondo del barile. Eppure ci sarebbero tutte le condizioni per invertire la rotta, per tornare a scommettere sul futuro. E paradossalmente non sono le risorse economiche, ma quelle morali che più mancano. Per questo stasera ad Arapacis vogliamo individuare con voi tutte le ricette per tornare a sognare. Regole, crescita, lavoro, merito. Sigla. Grazie a tutti.